Salve sono Bibi, abbiamo mangiato bene anche oggi. Sono con fiore oggi. Sono con fiore, festeggiamo. Festeggiamo che... cosa bolle in pentola? No, c'è tante di quelle galine prima o poi. Ma Vasco, che mi dici di Vasco? Un po' di brodo verrà ben fuori. Cosa mi dici di Vasco? No, non si può dire. Non si può dire nulla. Non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. No. Non si può dire. Ma andremo in onda? Ci sarà? Aspettiamo. Aspettiamo? Aspettiamo. E se sono rose... Fioriranno. Fioriranno, ragazzi. Un saluto a Bibi Ballani, il re della televisione, il suo avvocato. Eccolo qua. E siamo solo noi, Vasco. Sempre noi, sempre noi. Guarda che sono male. Poi dicono la sangrazzata.